sai che forse è l'acomo fa cosi? tu faccio delle immagini lui, muovete, hai fatto per c***o ci arrivava a casa ma senti come... Giona, l'ho mai vista una cosa già la prima volta l'avevo in diretta guarda la pasta che vola, guarda no, l'hai chiappata, Gianlina la pasta che vola là ferro, plastica, guarda, quello è ferro due no, ferro no stai a vedere tu stai a camminare? stai a camminare? stai a fare tutta la via da là ciao Luì stai a dire al cimitermo?